Si svolgerà a Napoli la nona edizione dei campionati italiani assoluti invernali di nuoto paralimpico, una manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico che si terrà i prossimi 7 e 8 febbraio nella piscina Scandone a Fuorigrotta. Questa iniziativa rientra nel ranking per le prossime Olimpiadi quindi logicamente chi si qualifica qui e chi farà ottimi risultati qui e poi lo farà anche diciamo in questo anno e creerà le condizioni per entrare nella lista nazionale. È la prima tappa del 2015 utile per i tempi di qualificazione ai mondiali di Glasgow e per ottenere gli slot per le qualificazioni alle Paralimpiadi di Rio. Abbiamo la possibilità di ospitare sei rappresentative stranieri tra cui la Russia, l'Ungheria, la Romania, la Croazia, la Grecia e una piccola rappresentativa della Spagna e in più poi ci sono come potete ben vedere i nostri più autorevoli atleti provenienti dalla nostra regione. Abbiamo Salvatore D'Urso, Manuela Romano, campionessa mondiale di Montreal 2013 e Ivan Perfetto che è un giovane esordiente che per la prima volta si accinge a partecipare a un campione italiano assoluto invernale. Napoli per due giorni diventa la capitale del nuoto parolimpico. Per me ritengo che sia un evento straordinario per la città di Napoli, soprattutto per il nome di Napoli e per il nome dello sport in questa città che sta iniziando a funzionare come dovrebbe. Salvatore D'Urso, Manuela Romano, campionessa mondiale di Napoli. Spesso, Manuela Romano, campionessa mondiale di Napoli è un po' di